Ciao a tutti. Finalmente dopo tanto tempo riesco a fare un nuovo video, è molto che manco dal canale, purtroppo non ho avuto tempo e ne ho sempre poco, però ogni tanto cerco di mettere qualcosa di nuovo. Oggi visto che dovevo fare un lavoretto alla macchina, in questo caso a una lancia Y, la lancia Y della mia compagna, in pratica dovrei mettere il cavo AUX perché di serie non è fornito. Quindi volevo dare la possibilità di collegare col cavetto AUX il telefono e in più metterò un modulo bluetooth, così che possiamo anche ascoltare la musica senza nessun cavo. Allora, dentro ci sono già i due gancetti che servono per estrarre l'autoradio e lo spinotto è questo con il jack. Io ho scelto di prendere il jack maschio, ma se si vuole si può prendere anche con il jack femmina, perché io ho questo apparecchietto qua che avevo già comprato precedentemente per altre cose. Questo qua è all'ingresso per il jack, ne ha due addirittura, è a batteria, però è anche ricaricabile, però si può anche utilizzare collegato, diciamo. Io metterò poi questo jack qui, da qui, da premendo questo tasto si fa la ricerca e si collega a un cellulare. Comunque, adesso vi faccio vedere. Adesso intanto iniziamo a tirar fuori l'autoradio. Ecco qua. Vanno inseriti qua questi gancetti, facendo attenzione a non rigarla, perché quando li mettiamo dentro dobbiamo subito inserirli, perché sennò si riga facilmente. Ecco, io ho sentito già un clac, eccola qua. Facilissimo. A questo punto, io adesso per farvi vedere a voi, praticamente la tolgo tutta, così vi faccio vedere come è sul retro. Ecco, sgancio il cavetto dei tasti. Qua ci sono questi due spinotti qua, non so se riusciamo a vederli, vediamo se riesco a farveli vedere. Ci sono questi due spinotti qua, che basta premere. Scusate l'immagine, adesso cercherò di... ecco qua. Si preme questa linguetta e si libera. Ok. Poi, qua c'è l'antenna. Stacchiamo anche l'antenna, così vi faccio vedere com'è. L'abbiamo liberata. Questo è... come si presenta dietro. Adesso, questo spinotto va messo, se non sbaglio, qua, perché è obbligato, sì. Non potete sbagliarvi, perché se no non entra. Va inserito qua. Lo inseriamo, così. Questo era solo per farvi vedere come fare, perché se no non avevo bisogno neanche di tirare fuori l'autoradio. Adesso la rinserisco. Scusate, ma... Devo ottenere anche il cellulare. Quindi cerchiamo di fare una cosa che va bene. Allora, vediamo. Visto che prima non avete visto bene, adesso cerco di farvi vedere meglio come si vanno agganciati al contrario rispetto prima. Ecco, avete sentito che ha fatto rumore, quindi si sono incastrati. Questo, abbiamo detto, che è lo spinotto delle frecce. Vediamo se riesco ad accompagnarla un attimo, così lo aggancio. Lo agganciamo. Poi tiriamo su questa levetta, questa, e si blocca. A questo punto aggancio anche l'antenna. Ok. Abbiamo riagganciato tutto. Questo è il mio jack. Adesso, prima di chiudere, provo tutto. Allora, adesso la radio normalmente fa questo. Adesso, schiacciando il tasto media... Accettare l'apparecchio. Schiacciando il tasto media, automaticamente viene AUX. Prima non dava questa scritta, perché non c'era lo spinotto agganciato. Ecco, non si vede molto. Comunque, lo devo far passare qui dentro, perché io già so che scenderà più o meno in quella zona che mi interessa a me. Adesso, vediamo se riesco a pescarlo. Lo faccio scendere un po', e poi vado da sotto a tirarlo. Ecco qua. Come vi avevo detto, il cavetto adesso mi è arrivato qui sotto. Io andrò adesso, vi faccio vedere... Vediamo... Inserirò questo... Così, ma adesso poi, in pratica, lo nascondo qui dietro. Vi metto un po' di biadesivo, ma neanche, lo lascio qua, così. È comodo da... Non si vede, perché da sopra non si vede niente. Però, allo stesso tempo, per me è comodo. Bene, adesso vi faccio vedere come rinserirla. Cercate di fare spazio qua per i cavetti, perché non c'è molto spazio dietro. Quindi, se fanno spessore, poi diventa complicato. Adesso andiamo a vedere se c'è spazio sufficienza. La spingiamo. Premiamo, ma non esageriamo. Ok. Qui, sembra tutto a posto. A questo punto, tolgo le due... Le due staffette lì, i due gancetti. Ecco qua. Adesso verifichiamo che parte. Ok. Eccoci qua. Adesso finisco un attimo, pulisco, e poi concludiamo. Passiamo alla conclusione del video. Ho piazzato tutto, ho pulito la radio, ho nascosto il bluetooth qui dietro, come vi avevo detto. Basta soltanto metterla a mano, tirarlo fuori se c'è bisogno. Comunque non va mai toccato, perché tanto ho già abbinato il telefonino. E, boh, che dire, accendendola... Adesso c'è la radio... Adesso c'è la radio... Però, l'ho già provato, funziona perfettamente. E, che dire, vi rimando al vostro lavoro, se dovete farlo. Vi auguro una buona giornata. Vi invito a iscrivervi al mio canale, lasciare un like. Questo è un piccolo video, speriamo di farne al più presto altri. Vi ringrazio. Ciao a tutti.